Un lunedì a lavoro in palestra, nulla di anomalo se si considera che anche il prossimo impegno di campionato sarà di sabato a Venezia contro i campioni d'Italia in carica, ma molto importante per dare il via ad una nuova settimana di allenamenti che per la fortitudo di coach Martino saranno fondamentali per cercare di riordinare le idee e ritrovare condizione dopo che nell'ultimo mese è arrivata sì la qualificazione alla finalette di Coppa Italia, ma sono anche giunti 3K.O. nelle ultime quattro partite disputate e l'ultimissimo innegabilmente è quello che ha fatto più male. Veder passare una squadra che ne aveva perse 16 in fila, facendolo per di più con autorità nell'abituale fortino del Paladozza, è un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Una situazione che ha acceso un primo campanello di allarme con il club che legittimamente guarderà con una certa attenzione a quanto accadrà nelle prossime settimane. Ci si aspetta che la squadra abbia un cambio di atteggiamento, aspetto prioritario per un gruppo che ad ogni modo, non va dimenticato, continua ad occupare un'ottima posizione in classifica, la settima, e vanta un bilancio vittorie sconfitte ancora all'attivo, con nove successi ottenuti sulle 17 gare giocate. È indubbio che in questo momento ci sia una flessione fisica che sta condizionando soprattutto le prestazioni di Lunen e Stipcevic e che lo stesso Daniel offra un rendimento ancora altalenante, ma ogni squadra attraversa momenti di difficoltà e in questi periodi quello che fa la differenza è la qualità della risposta. L'idea del presidente Bianco Blu Pavani oggi è quella di concludere la stagione con il gruppo che l'ha cominciata. Occorre chiudersi in palestra e lavorare per recuperare in trasferti i due punti persi a domicilio contro peso.